Amici sono carichissimo e non vedo l'ora di finire questa intro perché nel video di oggi di Fortnite andiamo a scoprire il POE ovvero il Point of Interest, il punto di interesse, il landing spot, il chiamatelo come volete, nuovo e segreto nel quale mi avete detto che cambia in ogni partita, proprio letteralmente ogni partita questo posto si sposta e fa tutte cose incredibili esattamente come le sto facendo io, incredibili quindi speriamo di trovarlo, incrociamo le dettine, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video fate tutto quello che volete signori, fate come se fosse a casa vostra e iniziamo e speriamo di trovarlo, non lo so, non l'ho mai trovato, magari l'ho già trovato, non lo conoscevo Allora amici siamo sul pullman della battaglia e da quel che suppongo può essere qua o qua la barchetta ma vi giuro non ne ho idea, cioè proprio sto andando a tentativi quindi nel dubbio ce ne andiamo lì, non lo so, non lo so, mi sembra di vedere, attenzione Attenzione Massa, mi sa che l'ha spottata dal pullman, non è bella certezza, nel dubbio ci buttiamo verso di là, non sono sicuro di trovarla, non sono sicuro che sia lì e non sono sicuro neanche di come mi chiamo, quindi immaginate quanto posso essere sicuro di trovare questa barchetta incredibilmente emozionante Ora, ci buttiamo, potremo non trovare nessuno, nel dubbio il nostro obiettivo sarà quello di anche, oltre a trovare la barca vincere la partita, partita, non so perché l'ha detto in questo modo partita Comunque oggi sono particolarmente carico, mi sento veramente euforico, come direbbe un meme di nostra conoscenza e niente, è il tempo di arrivare lì e ci vediamo dopo, faccio un piccolo tagliettino Allora, questa zona mi è uscita che si chiama Campo Merluzzo, quindi credo proprio che non sia questa la barchettina anche perché è decisamente una casa, quindi mi sa che a sto giro non l'abbiamo trovata però già in quelle boys che ci penso io e non abbiamo neanche un'arma Ok, ho trovato il pompa ma mi fa abbastanza vomitare, quindi potremmo non avere davvero un'arma quindi potremmo essere in una situazione molto spiacevole Ah, tra l'altro questa è Flash Factory, che figata, rimettono Flash Factory C'è uno dei boys Goodbye my lover, goodbye my friend Vai a casa, ma cosa volevi fare? Questo qui è venuto cattivissimo e ci ha detto Ma ti sparo cosa? Ma ti sparo cosa? Io direi a sto punto di pushare un po' tutti e speriamo di trovare il nuovo spot No, no, vi pre... li odio, li odio, totale proprio Proprio odio totale per i cacciatori Muori, uh però lanciarazzi, uh preso il lanciarazzi Qua c'è tra l'altro anche un tipo che non ci ha visti, oh mio dio non ci ha visti Ok, va bene Scappa, scappa, scappa in elicottero Prima ricarica, poi scappa, prima ricarica, poi scappa, prima ricarica, poi scappa Allora io direi che quatti come gatti, a parte che ci continui... Ok Quatti come gatti ci lootiamo la zona qua No, no, sto bru... oddio, guardate No, guardate il nome che va a fuoco No, no, ok, basta, scusa Oddio, anche il nome va a fuoco Che figata Uh, tac Ah, tre schierini, eh, tre schierini Cosa facciamo? Togliamo il cecco? Perché sinceramente voglio usare lancia, lancia, lancia Ragazzi Si stanno un po' nascondendo gli infami, eh, vi stanno nascondendo Salve, salve, ok, ok, stai calmo, devi stare calmo, devi stare molto calmo Stai fermo, è buono, è zitto, è calmo, c'è proprio tutto zitto, devi stare Lancia razzi, M4, tutututututututu, scassato, vedete che lancia razzi, vedete il power del... Cosa? Si scappa? Dai scappa Dai, non ci credo, mi è un ciucconato Signori Seconda e molto probabilmente Ultima partita Cerchiamo di nuovo la barchettina Ma morire così proprio Morire così è uno schifo totale Dannazione dovevo ripararmi Dovevo ripararmi Ok allora sto giro siamo sbucati Col pullman di qua E quindi me ne andrei in sta zona Ora quel pezzo della mappa non l'ho ancora esplorato Cioè sinceramente io sto andando un po' a caso Perché quello è lo squalo Quindi non c'è la barca E' quella lì? No Eh però è una barca Oddio sapete che è una barca quella? Siamo atterrati da soli mi sembra Sì da soli La roba c'è Perché c'è anche su questa barchettina Però come vedete non penso proprio che sia quella che intendiamo tutti noi Quindi nel dubbio Allora io credo che non sia questa Nel dubbio se davvero fosse questa Scrivetemelo nei commenti No c'era No c'era cerca L'ho letto C'era un cerca No Ecco Cosa mi son perso Dai Vi è c'è Sì sì certo Sì come se fossi più forte a costruire Sì certo Sì certo Fuori 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 Oddio che pelo Oddio che pelo Ok 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 Mangiate il flopper tipo prima di subito Eppure gli scudini Wow 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 Questo qui non dico che era pericoloso ma ci ha dato noia Ci ha data molta noia Ora non credo ci sia qualcuno quindi Non vi lascio neanche il pezzo Ve lo taglio Mi luto un po' di cose Ci vediamo appena trovo qualcuno Oh mio dio Continuo a baggarmi Dicevo Chi è sto coso Cos'è John Z Che cacchio Vabbè ci vediamo dopo Ho trovato più di un tipo Perché Eh sì vabbè Ogni volta che trovo un tipo Non è mai da solo Devono sempre essere almeno in 16 Che mi sparano Guardate quanti Dai pushami Allora lì ce n'è uno Che esatto Mi sta davvero pushando Quindi ricambiamo la pushatina Tuk 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 Che gli saliamo Oh mio dio scusa Dicevo gli saliamo O comunque ci proviamo a salirgli sopra Ma è volato via Sì Ha messo la jump E allora andiamo via anche noi dai Ha visto che siamo capaci a costruire Quindi si è un po' strizzellato Ma sinceramente va bene così Abbiamo fatto capire chi comanda E ora me ne vado a lootare Di zona non tocca Non provarci neanche a spararmi Dicevo Andiamoci Ci andiamo a lootare questa zona E speriamo di trovare qualcosa Ok c'è un tipo con il pompa Quello caricato Che ci vuole fightare Dai Dai come ha fatto a prendermi No fermo Fermo Stai buono Stai buono lì Boom 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 Facilissimo Easy Easy Non gli prendo neanche il pompa Quello di caricato Perché mi fa schifo Preferisco il tac blu Perché come avete visto Col tac blu l'abbiamo desintegrato E ok E gli rubo pure la barca Come sfregio Perché non doveva affrontarci Quindi come sfregio Gli rubo la barca Che in realtà è qui Però vabbè Dai gliela rubiamo No guardate che figata Se arrivi a una certa Ti fa tornare indietro Io non sto facendo niente Sto andando dritto Boh che figata Non la sapevo sta cosa Quindi io direi di andarcene qua sopra Abbiamo l'altezza E appunto possiamo cecchinare Tutti coloro che vogliono Provare ad affrontarci Oh ci abbiamo un tipo sotto signori Occhio 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 Perché abbiamo Uiii Stai calmo Stai calmo Stai molto calmo No c'è il pino venta Quanto è forte il pino venta Signore il pino venta Quanto è forte Sali 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 Scassato Bianco Dai C'ha uno di vita Si è salvato Ok quanta gente devo E vabbè niente Niente C'ha distrutto Ok 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 Dai picchia 28 75 45 A casa Boy A casissima Allora mi prendo questo Questo Gli schiudini Datti gli scudi E Perfetto C'ha va pure No dai Non mi stufare Non mi stufare C'ha va pure due jump Ok Dai che sei stupido No No c'è occhio Scusa calma 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 No 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 Cosa sta succedendo Sto morto Uh lui è morto Lui è morto Stupido Allora Dattisco Non sto capendo niente Signori Allora Spacca 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 Uh 999 di metallo Ottimo Ok ora l'unica cosa da fare È aspettare Che gli altri sette Muoiano E poi vinciamo la partita Easy easy Lì ce ne sono due Che fightano tra l'altro Guardatelo in acqua Il pollo Boom No niente Ho paura a provare a colpirlo Perché poi mi cechinano Cioè sono sicuro Uh bianco No Allora lì ce n'è un altro È pieno Di gente Di zona Vabbè facciamoci gli affari nostri Siamo in safe Vabbè Ok Quello faceva schifo Perfetto Era il tipo di prima Strascarso Ah Ci ho provato No No Non ci credo Io ho tagliato i capelli Io ho fatto un servizietto gratis Eh questo è fugato Boom 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 Yeah E un altro È andato a Ninna Bravo Portami in loot Sì Stupido Stupido C'aveva anche il pompa viola Perfetto Signori Perfetto Ah ok Ha jumpato Ok 26 blu Con calma Con calma Dai una pozzata 50 Ah peccato Peccato Vabbè Signori ho un piano proprio alla veloce Così Dai veloce veloce Stuc 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 Vai ora ridammi gli scurini Oh prese GG Master Che animalata che ho fatto alla fine Tour della vittuale Perfetto Signor Perfetto Ritorno e abbandona la lobby Ma signor Cioè ho sbagliato a parlare Ma vabbè avete capito Signori Mi tolgo le cuffie Come alla fine di ogni video E oggi che giornata What a day Signori Abbiamo quasi Forse Credo Trovato la barchettina In caso scrivetemelo voi nei commenti Abbiamo ottenuto una bella vittoria reale Tanto mi sta morendo anche la voce Piano piano nel tempo Spero che questo video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un commento Un piace Condividere il video E io come sempre vi do l'appuntamento domani Alla solita ora Alle 2.45 Con un nuovo video Ciao Woo